Bene, saluto tutti, sono sempre Daniela Di Bernardo, ormai penso che mi conoscete perché ogni tanto compare questo amico con questa telecamera e mi ingabbia qui a parlare. Oggi siamo sempre nel Teaterno Sporting Club per i campionati regionali di dressage. Il dressage è una disciplina molto interessante, parlare di dressage è una grande parola. Parliamo di lavoro in piano, quindi di un lavoro che porta i cavalieri a chiedere un'obbedienza, una rispondenza agli aiuti dei cavalli. Ci sono dei giudici che valutano il lavoro effettuato dai vari binomi, esattamente come si farebbe per gli esercizi obbligatori nella ginnastica artistica. Loro hanno dei grafici alle varie andature da eseguire e per ogni movimento il giudice mette un voto. Alla fine chi ottiene i voti migliori vince. Ci sono ovviamente tante categorie. La cosa bellissima quest'anno è che ci sono davvero tanti binomi perché abbiamo superato i 60 partenti. 60 partenti in questo tipo di disciplina è raro averli anche in regioni grandi come può essere il Lazio, come possono essere le Marche o il Veneto. Quindi secondo me questo è stato un ottimo risultato. Speriamo anche che il tempo ci voglia assistere. Ha piovuto un po' oggi ma sta mantenendo. Le categorie vanno da quelle più elementari che fanno i bambini piccoli solamente al passo al trotto fino a categorie di una certa importanza. Domani ci saranno anche le riprese con la musica che sono davvero belle e interessanti da guardare. La cosa buona secondo me di questo ritorno dopo il lockdown, speriamo che non ce ne sia, potrebbe essercene, anche un altro a breve. Comunque la cosa che tutti noi istruttori abbiamo notato è che c'è stato un avvicinamento al mondo del cavallo dopo il blocco di marzo, aprile e maggio. Davvero incredibile. Questo è stato dimostrato dai campi estivi ma è dimostrato anche dalla frequenza presso i vari centri affiliati FISE. Ci sono tanti allievi, c'è tanto movimento, c'è voglia di fare, c'è voglia di stare all'aperto, a contatto con la natura. Quindi sicuramente nella disgrazia forse il Covid all'equitazione ha dato una buona mano. Ora speriamo che si vada avanti in meglio e non in peggio. Grazie.